Un film che sconvolgerà Foligno, tratto da una storia vera. Che sega, basta un po' con sto microfono, hai rotto di coglioni, sto a dormire, zitto, zitto! Eh, dicevo, eh, già, dicevo, tratto da una storia vera, un uomo, un perché. Un uomo condotti fuori dal normale, o quasi, un uomo alla pari di Lupin Terzo. Cazzo! Un uomo chiamato venti metri. Di profondità, conosciuto, per i suoi grandi noti di musicista. Chiamato nel suo momento. Ufff! 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 Chido, com'è tuata disability! Chido, seg'è! Si! Un bello vito! Oh, ma hai visto quanto è bella quella delle punti qua? Mi ha portato il piede a me e mi metto una paura. Ma la fa lungare, è vero o no? Quanto più se mi dà benissimo. Oh, ci sei? No, bene, bene, bene. Allora, dicevo che... Sono qua un calcolo, non stai facendo un calcolo. Un calcolo. Un calcolo. Un calcolo. Un calcolo. Un calcolo. Grazie a tutti.